Il NSTF, il NSTF d'America, come ti sembra? Il corso del cavallo sta bene, non abbiamo niente da perdere, abbiamo trovato l'occasione di poter partecipare e corriamo. Il cavallo è in forma, ma resta un corso molto duro e si fanno piacere alla base, visto che è un bel corso. Il cavallo è in forma pura, quindi provano, ma non è la prima volta. Penso che un solo corso in le jambi è davvero troppo giusto? Se una corso solo nelle gambe è un po' dura. No, ma il cavallo fresco corre bene, perché è iniziato in Finlandia quando abbiamo vinti due gruppi uno, veniva super giù da un lavoro così e da una corsa nelle gambe proprio qua in Francia, e ha vinto subito il Prix dell'Età Royale, poi ha vinto Finlandia a Ayo, è stato in forma fino all'Elite Lop. D'accordo, d'accordo. Il cavallo dice che il cavallo corre molto bene su la frescezza, visto che ha vinto due gruppi in Norvegia in corso sulla frescezza, e avevano fatto un corso di entrata. Corre meglio all'estero che all'Italia? Il cavallo è meglio all'esterno che all'Italia. Il cavallo è meglio all'esterno che all'Italia. C'è 2.700 metri, la pista è grande. Qua in Francia è dura, però può seguire le andature, ti metti lì un po' nascosto. Il cavallo è molto forte, e quindi, va correre in caccia, ovviamente, però, normalmente, il va seguire il tren senza problemi, perché è un cavallo di grande qualità, e, a 2.700 metri, non va rilassare. Il cavallo va fare la corsa. Cosa spera, il cavallo? Cosa spera, il cavallo, con la piazza? Un piccolo piazzamento, va bene. Un piccolo piazzamento, va bene. Udri Dei Veltri, con l'Elene Janssen? Udri Dei Veltri. Veltri è in grande forma, ha fatto l'ultima volta qua proprio in Francia, seconda con Uvri. La cavallo ci può stare, anche lei per un piccolo piazzamento, perché vedo che la corsa è una chiamata abbastanza grossa, rispetto a quella che lei ha disputato, a 300.000 euro in carriera. ha detto che è un attenzione un po' forte, però lei è in Francia. Ma la jumenta è venuta dal secondo con Franco Uvri, la jumenta è in forma, quindi spera comunque di essere in la corsa, nelle cinque, nelle place. e l'ultima è un P? Un P, quello con la P. Pioneer Gare. Questo è un buon cavallo. Si adatta molto a questa pista qua, è una buona chance. ha detto che adoro questa pista qua, è un cavallo che si piace bene là-dessus, è un cavallo per la pista francese, quindi ha la prima chance. C'è la migliore chance del weekend? La prima chance del weekend? Sì. Sì.